A poco più di un mese dal ferragosto, cosa bolla in pentola per la Vara 2016? Il nuovo assessore alla cultura, Daniela Ursino, sta lavorando all'organizzazione dell'evento più atteso dai messinesi. A breve nel dettaglio sarà illustrato il programma. In cantiere alcune iniziative che faranno da corredo alla grande processione del 15 agosto. L'obiettivo è la valorizzazione della Vara come patrimonio storico, culturale e religioso della città. Le ultime edizioni della manifestazione sono state caratterizzate dalle ristrettezze economiche. Aspetto questo più volte rimarcato all'ex assessore Torino Perna, che per far fronte alle spese aveva lanciato l'iniziativa dei salvadanai, senza tra l'altro ottenere particolare successo. Le difficoltà finanziarie di Palazzo Zanca non sono state del tutto superate e così anche la prossima Vara dovrà fare i conti con le risorse che non ci sono. Il Comune in bilancio ha inserito solo le spese considerate necessarie, e quindi quelle relative al montaggio della macchina festiva e la sicurezza. Per il resto ci saranno i privati, che pure in questa occasione l'amministrazione a Corinti, come ha fatto in passato, conferma oggi l'Aursino, intende coinvolgere. Tra questi il gruppo Caronte Turist, che nelle ultime edizioni ha offerto lo spettacolo pirotecnico. Un terrenominato, quello delle sponsorizzazioni, che ha già spaccato dall'interno il gruppo consigliare di Cambiamo Messina dal Basso. Il movimento che sostiene il primo cittadino in queste ore si è diviso sull'opportunità di chiedere la collaborazione all'armatore privato, nei confronti del quale, nel recente passato, la stessa amministrazione aveva annunciato un'azione incisiva per quanto riguarda la gestione della Rada San Francesco ed il passaggio dei mezzi pesanti dal centro cittadino. La sponsorizzazione della Vara è un ritorno d'immagine importante per Caronte Turist, che, così facendo, potrà vantare di essere a disposizione della città e di collaborare con l'amministrazione. Poco importa, a quanto pare, se non si rispetta l'ordinanza che evita l'imbarco e lo sbarco dalla Rada San Francesco, riversando i camion per le strade cittadine e mettendo a repentaglio la sicurezza dei messinesi. Ma questa è tutta un'altra storia.